benvenuti in questa guida top 7 asciugatrici di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo samsung asciugatrice prevenzione pieghe niente p pieghe negli abiti asciutti senza bisogno del ferro da stiro cos eviti che i tuoi capi restino in un vediamo la nostra valutazione una qualità generale eccezionale 3 stelle nell'offerta nelle caratteristiche raggiunge 5 stelle per il rapporto qualità prezzo diamo 5 stelle il nostro punteggio generale è di 73 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo samsung asciugatrice prevenzione pieghe niente p pieghe negli abiti asciutti senza bisogno del ferro da stiro cos eviti che i tuoi capi restino in un ecco cosa pensiamo 5 stelle nella qualità generale proposto a super sconto per le funzionalità raggiunge 3 stelle con un rapporto qualità prezzo fuori dal comune il nostro punteggio generale è di 80 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo bosch elettrodomestici asciugatrice con filtro easy clean in classe a più più asciugatura molto efficiente e filtro di facile pulizia auto dry asciuga i capi vediamo la nostra valutazione la qualità generale raggiunge 4 stelle buona la promozione con caratteristiche davvero soddisfacenti nella media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 83 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare samsung asciugatrice prevenzione pieghe niente pieghe negli abiti asciutti senza bisogno del ferro da stiro cosseviti che i tuoi capi restino in un posto vediamo il nostro parere 5 stelle nella qualità generale 5 stelle per la sconto 5 stelle per le caratteristiche diamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 81 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo samsung elettrodomestici prevenzione pieghe niente p pieghe negli abiti asciutti senza bisogno del ferro da stiro cosseviti che i tuoi capi restino in un vediamo la nostra opinione una qualità generale buona imbattibile l'offerta a prezzo scontato con caratteristiche quasi al top in definitiva accettabile il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 86 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo isense d hg e 901 flusso d'aria twin flow asciugatura perfetta anche per i capi pingombranti maglioni piumini coperte non temete gra ecco la nostra valutazione una discreta qualità generale un'offerta da cogliere al volo con caratteristiche al top gamma assegniamo 5 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 87 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica candy smart con n e t t i v i t a n f c ricevi consigli utili accedi a numerose funzioni come cicli aggiuntivi per ogni esigenza o check up smart ecco il nostro parere una soddisfacente qualità generale proposto a super sconto nelle caratteristiche diamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo diamo 5 stelle il punteggio è di 94 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale